In mente un solo pensiero, riportare il suo Catania nella massima serie. Non sarà facile, ma Maurizio Pellegrino ha già chiaro come affrontare la difficile risalita. Un dovere dopo quest'annata sfortunata, però insomma è giusto anche farlo con la consapevolezza che sarà un campionato difficile, un campionato impegnativo. Della squadra che sta nascendo, l'allenatore del Catania conferma che ne faranno parte solo coloro che hanno voglia di lottare per la maglia. Io credo moltissimo all'attaccamento alla maglia, a questo forte senso di appartenenza, perché solo così si possono ottenere grandi risultati. Decisivo sarà dunque l'approccio alla nuova avventura. Sin dall'inizio dobbiamo essere determinati e pronti per affrontarlo nella maniera giusta. Sul fronte mercato Calaio appare l'uomo giusto per sostituire Bergessio. Per l'ex attaccante di Siena, Napoli e Genova sarebbe pronto un contratto biennale. La conferma di Castro, accanto a Leto, regalerebbe poi a Pellegrino un reparto offensivo di assoluta qualità per il campionato cadetto. In mezzo al campo continua il lavoro sotto traccia con lo sport in Lisbona per trattenere Rinaudo in modo da garantire la giusta dose di esperienza, qualità e qualità ad una mediana che potrebbe contare anche sull'Odi. Le possibili cessioni di Peruzzi e Bellusci e l'addio al calcio di Le Grottaglie impongono un profondo restyling al pacchetto arretrato che con ogni probabilità potrà contare anche su Spolli rigenerato dopo una stagione particolarmente difficile.